Grazie a tutti. Non fugga, ci veste. La Chiesa è anche dei fedeli. Non è solo gerarchia, non può essere solo gerarchia. Bisogna ascoltarla, la senta la voce. Senta la voce della propria. La senta. Sono colore, vota la figlia da base. Ma si ascolta la propria. Ma le sembra che i fedeli si siano espressi in un altro modo? A me sembra evidente come si sono espressi. Ne tenga conto. A me sembra che ho fatto una caposizione. Non c'è la propria. Allora, se lei sa bene di me che se non si è un solito, non c'è la propria. Se lei si è un taterale. Con tutti gli spettatori, non si è imposto. Non c'è la sentita. 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 Perchè, non c'è la sentita. Io lo dico subito. Perchè tutti insieme. Fa una baracca. Allora, fa una baracca. Allora, fa una baracca. Allora, fa una baracca. Lei venuto a me dalle 10 all'una tutti i giorni. Possiamo finire tutti dalle 10 alle 11 alla sera. La parrocchia che non la pensa come lei in questo momento, perché lei sta togliendo una grande sacerdote. Io non ricevo, quindi lei ha detto che non ricevo le persone. Non ricevo le persone. No, io non ho detto a questa partita. Io sto dicendo... Non si perde, è fermato. Andiamo a farlo di fronte a tutti. C'è la trascosta del Presidente, ha fatto... C'è la trascosta del Presidente. In concreto, a questa domanda che ha risposto, io non ha risposto. E' perché questo principio è basso. Perché noi volevamo come comunità di una risposta concreta. Possiamo avere una pianta, senti adesso, possiamo prendere la pianta! Non sono potenti, la capisco. Non ascoltatevi, sono tutti i tre anni. Non mi dà parlare di quello che stu buton. Non prenda un giovane, che non ci fa molto di questa merda. Perché non ce ne sono. Ma non ci sono, non ci sono, ma non ci sono, ma non ci sono. Non ci sono. Perdeci, non ci sono. Pobri non ascolta. Gioco, sono tutti i pauvoli. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Non è chiaro, non è chiaro. Non è chiaro, non è chiaro. Non è chiaro, non è chiaro. Non è chiaro. 50 anni, perché a noi no? E' celeste, non solo quella mia, si guardi, Gesù è nato in una caffanna, noi deve venire in pubblica con i presidenti della marina perché siamo cristiani. Questo l'ha scritto lei, scusate un attimo, venite qui, la marina viene trasferito perché era qui 30 anni. Aspetta un attimo, allora c'è un sacerdote che è stato visitato da Monsignore la settimana scorsa, che c'è stato per 60 anni e viene qui vantato per esserci 60 anni. Io sono cattifista, il Cerenza, uno dei vostri si ricorda. In concilio c'erano i concorsi e un parro aveva diritto di starci a vita, cosa mi sta dicendo? Sono state eliminati, quindi vuol dire che dobbiamo stare in meno o in più, ci stai in meno. No, anche al poeta la parroia, perché c'era 40 anni al poeta. Sì, certo che è vero, no, non mi interessa la parroia, quanto mi interessa. No, non le dò una Cerenza, io non vado una Cerenza. Pregheremo per lei, Cerenza, pregheremo per la sua alma. E bravo, pregheremo per lei, mi ha molto bisogno. Ti ricordi cosa vuol dire mangi? Ti ricordi? Ti ricordi? Ti ricordi cosa vuol dire mangi? Ti ricordi? Grazie.